ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento, in più servizi e rubriche sui comuni problemi legali, le risposte dei nostri avvocati, un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Ben ritrovati dagli studi televisivi delcomizio.it. Oggi abbiamo un ospite graditissimo che è vicino di studio. Sì, sì. Roberto Davi di Studio 107. Ciao, grazie innanzitutto dell'invito. Per me è un piacere oltre che un onore essere qui. Sono curioso di vedere cosa mi chiederai perché... Siamo tutti curiosi, io sono curioso di sapere che cosa mi risponderai perché... Parliamo della vostra avventura professionale che è appena iniziata e è già a pieno regime. Sì, assolutamente sì, come si nota anche dalla voce perché... Noi siamo principalmente una radio, Radio Studio 107 Milano che è nata il 29 marzo di quest'anno. Dunque è un'esperienza nuova per quanto riguarda questo claim, ma dietro c'è tutto un lavoro e uno staff che mi segue più o meno da 20 anni. Quindi diciamo che è un nome nuovo ma è un'entità radiofonica che era già presente prima con altri marchi e abbiamo voluto prendere in mano noi le regini. Adesso parliamo di Studio 107. Prima parliamo di te, visto che siccome dicevi 20 anni fa siamo partiti con i colleghi e amici di questa avventura, ma tu nasci come speaker radiofonico del lontano... Dunque, 30 settembre 1980, per la precisione, sì, me lo ricordo perfettamente perché è una di quelle cose che chi fa questo lavoro non si dimentica più, l'esordio forzato devo dire, non per me ma per chi mi ha dato la possibilità di esprimermi diciamo così al mixer, al microfono in questo caso, vendendomi come uno che aveva già fatto radio, perché all'epoca era il trend, no? La radio era il sogno un po' di tutti i ragazzi della nostra generazione, allora giovani, allora. E quindi avevo delle amicizie che già facevano parte delle prime radio libere in provincia di Milano e ho detto, ma perché non provarci, no? Ho conosciuto questo ragazzo che appunto ha lavorato in questa radio di Piontello, che è un paese alle porte di Milano, e gli ho detto, no, no, ma io ho già fatto. In realtà organizzavo le feste a casa mia con i compatti, no? Sai gli stereo, i giradischi, la cassetta e la radio? Ma non l'avevo mai lavorato con un mixer, quindi lui mi prese in parola e mi disse, va bene, guarda che domani il pomeriggio alle 4 alle 5 si è in onda, no? E mi ha messo lì da solo. Quindi io praticamente non ricordo, l'ho rimossa quella cosa. Mi ricordo i 5 minuti prima e dopo, come ne sono uscito. Però chiaramente va bene, però erano tempi pionieristici, non erano certi network, e poi da lì si è sviluppata tutta una vita, perché ormai saranno 41 anni quest'anno a settembre, in diverse radio in provincia di Milano, poi la mia vita mi ha portato in Liguria, dove sono stato 22 anni e lì, insomma, ho affinato un po' l'arte. È perché dalle radio ai locali e alle discoteche... È un attimo, è un attimo. E siamo sempre lì, perché parliamo della metà degli anni Ottanta, anche lì nacque con un inganno, permettimi il termine, fra virgolette, un inganno di un imprenditore che aveva una discoteca all'Igueglia, alla Baia del Sole, vicino ad Alassio, e venne in radio, io all'epoca lavoravo a Radio Liguria International, che era una delle radio più potenti, diciamo, della zona del Ponente Ligure, venne un pomeriggio in radio, perché doveva fare della pubblicità, parlò con i titolari della radio, e mi disse, vieni via a trovare, questa sera in discoteca all'Igueglia. e io, ben contento, dico, senz'altro, vengo. Quando arrivai, mi diede anche l'orario, vieni però verso le 8 e mezza, 9 e un quarto, perché all'epoca le discoteche aprivano molto presto, e chiudevano mai. Molto, eh, esatto. E mi ritrovai in una selva oscura, facciamo questa citazione, perché il titolare della discoteca praticamente mi invitò lì, perché non aveva il DJ Resident. Ecco. Dunque, poi c'è l'arte del mixaggio, e lì mi ritrovai a mixare per un pubblico di 500 persone, ma io non l'avevo mai fatto. Cioè, l'avevo fatto in radio, all'epoca si facevano i bobinoni per la notte, no? Per riempire, non c'era la tecnologia di oggi, evidentemente, ma davanti a un pubblico io non l'avevo mai fatto, quindi puoi anche immaginarsi. Mi ricorda, anche lì, era l'11 maggio dell'85, questo me lo ricordo, avevo il braccio che faceva così, per vedere il braccio di giradischi. Poi, da lì, insomma, la discoteca è stata una parte importante della mia vita. Ho fatto 15 anni, praticamente 300 serate all'anno, più alcuni poveri. Ecco, come si sopravvive? A sette giorni su sette? Sì, me lo chiedo adesso. Dalle otto, nove di sera, fino all'alba, e poi di nuovo? Allora, innanzitutto la passione, perché la mia giornata tipo era, non so neanche se partire dal mattino, che non esisteva, evidentemente, perché andando a dormire alle 6 del mattino successivo, mi alzavo dopo pranzo, andavo in radio, perché facevo anche radio, facevo le mie tre ore in radio, la sera a cena sempre fuori, poi si andava in discoteca. Cosa c'era di bello? C'era la passione, c'era il movimento, c'era voglia di divertirsi, insomma, agli anni Ottanta, per chi li ha vissuti, sono stati veramente fantastici, anche dal punto di vista musicale. Ti interrompo, perché c'è una cosa che mi manda in bestia, e quando devono, non so, se non è capitato anche a te, quando devono accostare a qualcosa di vecchio, a qualcosa di superato, che siano macchine, che siano cibi, che sia modo di vestire, ma è molto anni Ottanta, io dico, ma magari. Sì, insomma, si stava bene. Che bello che è. C'era voglia di divertirsi, effettivamente le discoteche vivevano in Italia il periodo d'oro, c'era anche musicalmente l'Italo Disco, insomma, che spopolava, Gazzivo, Den Arrov, piuttosto questi loro, insomma, tutti questi personaggi, c'era l'elettronica che arrivava nella musica, quindi c'era la spinta anche dall'Inghilterra, c'erano le modi, i Paninari, i Duran Duran, gli Spandau, insomma, c'era un movimento... C'erano tutte le tribù metropolitane, che si dividevano, litigavano, c'era voglia di divertirsi, e poi c'era anche, se posso permettermi, un po' più di libertà, nel senso, sia a livello di orari, parlo di locali notturni evidentemente, che il resto del quale io stenderei, è un velobietoso, ci si divertiva e non te ne accorgevi, poi il disjockey, ovviamente la parte del disjockey, sai, attirava, ecco, diciamo così, che c'erano dei bene fit, sono sopravvissuto bene, in questo senso, cioè bene, non fisicamente, magari, però diciamo che mentalmente... Tutti gli aspetti positivi, di questa lunga storia, hanno aiutato, a superare anche, la fatica proprio fisica, assolutamente, che una vita del genere comporta, insomma, ho avuto un paio di tracolli, però poi mi sono ripreso, poi le cose sono cambiate, purtroppo con la fine degli anni 90, il passaggio digitale, ha comportato, apro parentesi, io sono uno di quelli che va ancora in giro, con le valigie dei dischi, quando vado a fare le serate, io suono ancora il vinile, il digitale ha comportato un cambio, anche generazionale, ha reso più facile l'acquisto dei singoli, c'erano le code nei negozi di dischi, il sabato, quando arrivavano le novità, e quindi, diciamo che il passaggio, prima al CD, e poi agli MP3, alla cosiddetta musica liquida, ha un po' raffreddato gli animi, e ha anche permesso a tanti ragazzi, giovani, di proporsi nei locali, a dei prezzi, che io definirei indecenti, e quindi questo, insomma, ha bruciato un po' il mercato, e poi la storia dei giorni nostri. Eh sì, temo che non riguardi solo quel settore lì, ma da quello, che si vede nei nostri settori, un po' diverse figure professionali, hanno pagato un po' il prezzo, a questa corsa al ribasso, alla semplificazione, anche poi alla banalizzazione. Sì, di tutto, perché essere disc jockey, parlo di disc jockey alla discoteca, comporta una preparazione musicale, perché all'epoca esisteva la figura del resident, che è un disc jockey, che tutte le sere è in quel locale, ma c'era l'occasione anche di suonare in altri locali, venivi chiamato per eventi, piuttosto che situazioni diverse, e quindi a seconda del locale dove andavi, dovevi proporre la musica, che quel locale proponeva, e quindi insomma dovevi essere, avere un background musicale è abbastanza importante, non fermarsi a YMCA, tanto per dire, e mettere qualcosa, che ne so, di Chaka Khan, faccio un esempio così. Bene, io andrei avanti ore, ad aneddoti, e a racconti degli anni Ottanta, e dell'epoca d'oro, delle discoteche e dei disc jockey, lo faremo sicuramente in altre occasioni. Quando vuoi. Parliamo della vostra iniziativa, del progetto che state portando avanti, con Studio 107, qual è la vostra proposta, il vostro polinsesso, che cosa avete in mente? Sì, allora come dicevo in precedenza, Radio Studio 107 nasce per un'esigenza anche nostra, innanzitutto di imprenditorialità proprio in toto nostra, ecco senza dipendere da nessuno, siamo editori evidentemente, di questa no emittente radiofonica, che mira un pubblico diciamo variegato, ma dai 30-35 anni in su, a livello musicale, perché noi abbiamo un'impronta che qualcuno definisce vintage, ma noi sta bene così, perché è un termine che va di moda, profondiamo musica soul, funky, disco, R&B, è una radio principalmente di musica internazionale, diamo il giusto spazio anche a quelle che possono essere le cose belle, che la musica italiana ha regalato, insomma i grandi classici, da Battisti a Mina, i passaggi ci sono, non è una radio solo musicale, perché noi vogliamo fare anche informazione, naturalmente siamo partiti da poco, però abbiamo una redazione sportiva che già propone alcuni programmi interessanti, abbiamo ospiti grandi firme del giornalismo, abbiamo un programma di letteratura condotto da Mirko Giacchetti, che oltre ad essere uno scrittore anche lui, che scrive per Milano Nera, è anche attore, con, faccio una marchetta, così si dice, con L.D. Production, hanno già girato cinque film, di buon successo internazionale anche, quindi ci occupiamo di cinema, di libri, cerchiamo di accontentare, ecco non vogliamo essere solo musica, cerchiamo di accontentare appunto il maggior numero di ascoltatori possibili, se si chiamano ancora ascoltatori, perché adesso sul web non si capisce più nulla, una volta dicevi sintonizzati, adesso cosa dici? Clicca, è bruttissimo però, però è così, insomma, sono ambienti comuni che si incrociano, mi piace molto questa varietà, e questo ventaglio così ampio, siete ambiziosi? Sì, timidamente ambiziosi, nel senso, stiamo cercando, anzi, diciamo che ci siamo riusciti bene, ad avere anche voci importanti del panorama radiofonico nazionale, ne cito uno su tutti, che è Mauro Salucci, Barattolo, il nome d'arte, che è stato anche direttore di Radio Babboleo a Genova, una delle radio più importanti, fondatore di Radio Nostalgia, ha lavorato in Rai, ed altre voci simili, proprio per il discorso che ti facevo prima, anche, diciamo, la conduzione dei programmi, cerco di affidarla a persone che comunque abbiano già, una certa esperienza, una certa esperienza, che soprattutto abbiano un background musicale importante, insomma, che non si caschi nel banale a tutti i costi, ecco, magari, mi piace rischiare, magari un ascoltatore in meno, ma un punto di qualità in più, un po' elitari siete da questo punto di vista, però, sì, anche perché quando, insomma, si ha qualche anno di esperienza, si è più esigenti, e si immagina che anche il pubblico, che magari è un po' maturo, abbia delle esigenze. Secondo me il web, che è una bellissima cosa evidentemente, ma soprattutto per quanto riguarda le radio, è inutile che noi, come studio 107 milano, si vada a fare concorrenza ai grandi network, uno perché non abbiamo le possibilità al momento, e poi non, cioè copiare quello che fanno i network, secondo me è sbagliato, è meglio magari crearsi una nicchia, infilarsi in quel settore, e cercare di emergere, che è un termine che va molto di moda, per il tipo di prodotto che tu fai. La nostra scelta musicale, è chiaro, magari in Italia non è seguitissima, invece che facciamo quello che era il vecchio modo di lavorare di Radio Milano International, non dico la buona one di adesso, parlo di Radio Milano International dei fratelli Borra, e diciamo che la linea musicale è quella, rischiosa se volete, però noi ci teniamo, e quindi... Bene, mi fa molto piacere, io sono sicuro che avremo altre occasioni, di confrontarci, di raccontarci molte cose, il comizio.it e studio 107, sicuramente faranno parlare di loro. Credo che potremmo fare qualcosa insieme. Ma io ne sarei solo felice, se siete d'accordo qui. Ne sarei solo, quindi possiamo già dare un annuncio, insomma. Certo. Faremo delle cose insieme, quindi, come dicono, stay tuned. Stay tuned, stay with us, non diciamo the best in town, perché sennò sarebbe una copia. No, esageriamo. Una copia. Esatto, esageriamo anche nella citazione. Grazie a voi. Grazie, e a prestissimo. Studio 107 Milano, cercatelo sul web, è facile, c'è l'app, ci sono i vari siti, Studio 107 Milano. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao da il comizio.it. Il comizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di il comizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento, in più servizi e rubriche sui comuni problemi legali, le risposte dei nostri avvocati, un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Il comizio.it, la voce di tutti, la tua voce.